Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Seguo con grandissima preoccupazione quello che sta avvenendo in Terra Santa. In questi giorni, violenti scontri armati tra la striscia di Gaza e Israele hanno preso il sopravento e rischiano di degenerare in una esperale di morte e distruzione. Numerose persone sono rimaste ferite e tanti innocenti sono morti. Tra di loro ci sono anche i bambini. E questo è terribile, è inaccettabile. La loro morte è segno che non si vuole costruire il futuro, ma lo si vuole distruggere. Inoltre, il crescendo di odio e di violenza che sta coinvolgendo varie città in Israele è una ferita grave alla fraternità e alla convivenza pacifica tra i cittadini, che sarà difficile di rimarginare se non si si apre subito il dialogo. Mi chiedo, e l'odio e la vendetta dove porteranno? Davvero pensiamo di costruire la pace distruggendo l'altro? In nome di Dio, che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella degnità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro, faccio appello alla calma e a chi ne ha responsabilità di far cessare il frastumo delle armi e di percorrere le vie della pace. Anche con l'aiuto dell'unità internazionale. Preghiamo incessantemente affinché israeliani e palestinesi possano trovare la stada del dialogo e del perdono per essere pazienti, costruttori di pace e di giustizia, aprendosi passo dopo passo ad una esperanza comune, ad una convivenza tra fratelli. Preghiamo per le vittime, in particolare per i bambini. Preghiamo per la pace alla Regina della Pace. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Preghiamo per le vittime, in particolare per i bambini.